Sicuramente è una squadra da fare dal punto di vista soprattutto della prestazione, soprattutto nella prima parte del primo tempo, però di fronte eravamo pure una squadra organizzata, una squadra forte. Vi ho detto prima che al di là della classifica, per me era una classifica bruciata perché loro hanno giocatori di qualità e oggi si è visto, però è normale che noi nella prima parte del primo tempo non siamo entrati con la cattiverà giusta in campo. E poi nel finale abbiamo cercato di risolvere la partita singolarmente e questo non dobbiamo fare. Un po' di sfortuna con tra i pali e la traversa, anche se ha qualche rammarico. No, ma quello sicuramente le ho chiesto, non l'abbiamo chiesto perché abbiamo giocatori di qualità che creano cose importanti, però il rammarico è più che altro per la prima parte del primo tempo, poi nel secondo tempo i ragazzi hanno dato tutto per cercare di portare a casa la vittoria. Anche in modo disordinato, anche a volte giocando singolarmente, però da quel punto di vista, punto di strateggiamento, ragazzi non possono parlare nulla. Grazie.